segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te figura di nordio e diciamo ora come come si pone in questa situazione beh innanzitutto ovviamente nordio è una figura dal punto di vista della sua carriera di magistrato ho l'impressione che sta superfettando dopo la pensione perché in tutta sincerità io non mi ricordo nessuna indagine di particolare rilievo svolta da lui se non quella durante il periodo di mani pulite dove lui giustamente in alternativa alla procura di milano indagava le cosiddette cooperative rosse poi non so che fine abbia fatto questa indagine e se sia arrivata da qualche parte quindi nordio è un magistrato come ce ne sono stati tanti altri sicuramente ha fatto un'onorata carriera senza macchia e per anzianità ma non mi risulta che abbia mai svolto ori di particolare dopo di che a me pare di se le indagini ma poi anche le indagini sulle brigate rosse sulla colonna veneta negli anni 70 non è stato alla 78 79 non mi pare che sia stato esattamente io probabilmente quella non la conosco era 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 precedente però diciamo sono passati pure dal 78 ad oggi sono passati tantissimi anni comunque torniamo a noi quindi non è non è certamente uno dei magistrati che si è diciamo almeno negli ultimi 40 anni distinto in modo particolare è una bravissima persona che in buona coscienza svolge il ruolo di ministro non ha competenze giuridiche che superino quella di 8 mila magistrati attualmente in carica e più o meno nella stessa media nella quale siamo tutti noi e quindi innanzitutto diamoci una calmata poi un'altra cosa nordio ha detto che non secondo lui non esistono presupposti per sanzionare politicamente donzelli e del mastro del mastro e del mastro ora io stavo